Ciao ragazzi, buonasera, bentornati sul canale Missio Channel, 4 del mese di aprile dell'anno 2020, sono in Anai Road, dove in questo momento inizia il consiglio di andare tutti a casa, qualche numero, le cose non stanno andando bene, stanno peggiorando anche in maniera estremamente veloce, 2000 sono i casi in Thailandia al momento, 4 del mese di aprile, 1000 oltre sono quelli sotto osservazione, 100 casi qui a Padonga abbiamo sfondato i 100 e 20 sono i decessi, le cose non stanno andando bene, in maniera veloce aumentano le restrizioni, da oggi 4 del mese di aprile nessun albergo può prendere più stranieri che vengono, ieri era l'ultimo giorno, quindi gli ultimi check in, chi non ha clienti chiuderà, il governo ha messo a disposizione delle persone 5000 bat al mese per poter coprire qualche mese, adesso non so bene, per il periodo comunque un aiuto lo sta dando, anche se purtroppo alcune persone che non sono a conoscenza di questo, che non fanno le pratiche, hanno bisogno di mangiare e che cosa fanno? Trovano dei punti qui in giro per la città dove possono prendere del cibo gratuito, vi lascio il piccolo video che dimostra quanto in confronto a tre giorni fa, sono aumentate notevolmente le persone che attendono il loro cibo per poter mangiare, la fila è chiaramente purtroppo triplicata dal video che avete visto, spero che le cose vadano un pochino meglio anche se purtroppo devo dire che la velocità di espansione di questo virus è decisamente elevata. Dalle 22 alle 4 c'è il coprifuoco ufficiale, ieri c'era l'esercito, 8 arresti, state a casa, state a casa ragazzi. Un saluto a tutti da Misso Channel, al prossimo aggiornamento sperando di dare dei numeri diversi. Ciao Ciao amici, buon pomeriggio, oggi è il 4 del mese di aprile dell'anno 2020, sono in Nai Road, sto facendo una passeggiatina con il mio scooter quando ho notato la solita fila delle persone meno fortunate che attendono un pasto, che devo dire la verità, sono molto ma molto ma molto cresciute in questi giorni. Osservate, il cibo viene distribuito gratuitamente e le persone in confronto a un paio di giorni fa sono praticamente triplicate. Voilà, faccio un passaggio inverso, si iniziano a notare le persone che camminano con i piattini, guardate, voi avete visto il mio precedente video e adesso potete vedere la differenza, sono notevolmente ma notevolmente aumentati, segno che molto probabilmente la voce si è sparsa e chiaramente possono usufruire di questo servizio. Ciao a tutti, dalla Nanai su Padombi. Bene ragazzi, avete visto il video, tutte le persone che erano in fila in maniera estremamente pacata, sono tutte persone che vivono questi momenti di difficoltà e in tutto il mondo, io ho documentato questo momento qui, ma in tutto il mondo, in tantissime città stanno vivendo la stessa identica situazione. La solidarietà in questo momento è una cosa importante, sicuramente chi mi ascolta, molti miei amici già lo fanno, toccando un tasto molto delicato della nostra personalità. Io vi saluto, un abbraccio a tutti, grazie di sostenermi, ricordo se il canale vi piace potete continuare a seguirmi iscrivendovi, ci aggiorniamo per le prossime notizie. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.